Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti, mi si è spostata anche la riga per ballare con questo abito strettissimo. Bentornati, puntata numero 487 del Festival Italia e Musica. Allora che forza la musica sempre, grazie al nostro corpo di ballo. Una puntata da non perdere assolutamente perché ci sarà tanta musica, tanta energia, tanta solarità, non mancheranno momenti di solidarietà e di sociale, davvero una puntata unica, restate con noi e grazie sempre al pubblico da casa che ci segue con grande affetto. Iniziamo con lui, uno dei protagonisti di uno show televisivo molto importante, All Together Now, ma prima di vedere il video vorrei ringraziare della presenza, quindi ci onorano il prefetto, Sua Eccellenza Emilia Zarrilli, già prefetto di Frosinone, già presidente della provincia di Frosinone, Giuseppe Patrizzi. Ben arrivati al Festival Italia e Musica, godetevi la serata e poi naturalmente ci sarà anche uno scambio di battute.